Grazie a tutti. La missione della cartella di pagamento di Equitalia per imposte dichiarate e non versate è comunque valida. L'emissione della cartella di pagamento non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che lo stesso controllo non rilevi l'esistenza di errori, essendovi solo in rare ipotesi di irregolarità riscontrate nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione di imposta, contributi, premi e rimborsi. Grazie a tutti.